Sì, non lo mandiamo, è che a quanto ho capito c'è ben poco da luttare. Io glielo manderei. Io pure glielo manderei a quei pe... L'ho ammazzato! L'ho ammazzato! Hey, man! Hey, man! Eh, vabbè, ma che cazzo! Thank you, man! Che infame, Dio mio! Bah che sei veramente... I tell you, I tell you, I kill you. Senti che è inglese. Semaser a Rienzi, ce ovo bene. Esatto! Don't shoot. No, no. Miche, bellissimo! Eeeeeeeh Eeeeeeeh I'm just like come out The bombing was destroyed by the people Here I am, I've got no gun Non shoot Oh my god, stop Vabbè, visto che voi non arrivate io vado a morire Certo cazzo Sono pieno di roba per costruire E' un altro ammazzato l'altro scoppiato hai ucciso bob no ma come da un genovese vabbè respawno vengo lì un cecchino che ti ha sparato si si un cecchino fucivano della madonna per un colpo ma comunque ci dividiamo ma cazzo non me l'hai neanche detto che ci dividevamo abbiamo detto uno a sinistra e uno a sinistra seccato via metti il g3 a3 del cazzo c'è anche il genovese porco dio sono l'eropo libia è 40 0 45 775 sembra lo stesso ah ma king viewer oh no ammi poi che cazzo è perchè non mi ti invio è sempre come ti invio allora c'è uno che corre qua davanti a me eccolo lì non c'è l'alarma senza niente non ammazzo lo stesso bellissimo minchia raga che casino che fa oddio bellissimo il casino che fa sta mitragliatrice raga che mitragliatrice è troppo la pkf è la pecene deve essere la versione migliorata della pecene sicuro che è quello dietro al cassone davanti a me uno l'ho ammazzato dietro al cassone poi non lo so e non ti ho chiesto l'amicizia a lotto perchè non ho soldi per farlo vai tranquillo vai tranquillo però magari non mi sparate aspetta che c'ho morto chiesto l'amicizia a vera che non c'ha soldi per farlo bianca te sei un ullo zaino? no non lo hai ucciso troia canna hai uno zaino? uno l'ho ucciso si ok perfetto allora se vedi uno sono io uno allora bianca uno l'ho ucciso a posto troia canna ah l'ho ucciso bravo il fucile che ti si appena preso è un m240 giusto? l'otto no un mk18 un mk18 ascolta ma hai il berretto? quello verde si esatto 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 sono questo sono questo comunque troia canna ti stanno spagando si non ti preoccupare che adesso sta a vedere come va a sonire quel mombo vieni qua vieni qua vieni qui da me te l'ho detto che lo ammazzavo vele arrivo aspetta te l'ho detto che lo ammazzavo o no? uuuu grazie allora uno l'ho preso raga si potrebbe quasi andare grazie mille bianca si potrebbe quasi andare sull'ospedale sapete? grazie mille bianca scoperto è bello che non si può cambiare quali cambiamenti? sono lì, sono di fronte sono di fronte raga lo sto raggiungendo è armato? si sta correndo armato no sta correndo armato non lo so si sa che è il momento di tirarlo giù guarda che bella pianura il primo se lo becca è suo è morto? è un vero il morto di così non potrebbe essere rocca maiuscolo ragazzi ho visto un player è sulla città direzione ce ne sono più di uno uno per tre vai 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 dimmi come sono presi però ragazzi no dai via da là lotto lotto vattene via stanno venendo in qua? no stanno venendo in qua stanno andando verso destra però li vedo li vedo li vedo porco dio però pure chi? ecco lì ecco lì ok sono alla torre della centrale elettrica occhio occhio state giù state giù non ti muovere voglio ammazzare tutti e tre no sono in pieno di questi due ok allora sono passati tutti e tre aspetta io non ho visto io ne vedo uno adesso ok io mi vado a prendere l'ultimo a sinistra ok sono passati tutti e tre vai vai stiamo di dietro come a questo qui eh sicuro che non è meglio sparare adesso? no no io vado dietro all'ultimo voi prendete i primi due più vicini a voi una parola allora ti spiego se tu ti prendi l'ultimo che lo ammazzi gli altri due si fermano e io se no e io vi dico dove sono qui io li vedo tutti pronto chi ha sparato? no no a chi? non lo so a chi però hanno sparato che c'è ma? che c'è ma? c'è ma sparato eh non penso non lo so a chi occhio a chi ok ragazzi voi gli siete in cura no 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 Greg non è no non rivedo più non rivedo più no no rivedo rivedo stanno proseguendo stanno proseguendo è in corrente di brutto anche eh sì 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 proseguite sempre per la stessa direzione sono in quattro sono in quattro non in quattro minchia non in quattro non in quattro qualche montagna cui li vedi in brutto no e io ho due di scuote ecco vi faccio tutti e quattro e io li faccio tutti e quattro sarebbe il momento amore Sì, appena arrivano in una radia, datemi la mano, datemi i paralleli, fermatevi, uno si è fermato. Ottoro uno, vedete che stanno proseguendo. No, non lo so, ne vedo uno, fermo, ecco. Che non è full of creep, è tipo in mutante. Sì, salutando. Occhio eh, ragazzi. Da che cazzo stanno andando questi? Sono un ammazzaro, dove vuoi che fanno? Minchia, sono tutti lì, li faccio tutti. Ma sì? Vai, 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 vai. Però io non ci so. Anche io non li vedo neanche, non so neanche di cosa stanno. Uno. Dai, ce li ho di fronte, raga. Mi devi dire per cortesia dove sono loro di personale. Minchia, ma lui è stato più brutto qua. Ragazzi, c'è uno zafiro in mezzo. Deciso, deciso. Bravo. Non li vedo, eccolo là. Ce ne sono due di fronte a me. Che sì, ti vedo. Ti sta venendo addosso, ti sta venendo addosso. A chi, a chi? Ho ucciso, l'ho ucciso. Bravo. Non so chi m'ha colpito, ma me l'ho colpito. Ce ne ha uno. Eh no, è morto. Bella, tutti morti. Ragazzi, posso fare il controllo della situazione? Sono alla centrale elettrica. Occhio zombie, occhio zombie. Devi venire... C'è un problema, più c'è, un armadio. Chi è che farà? Chi è che farà? Io sono io. Minchia, questo c'ha l'M187, vai. All'acce. Ma cosa c'è, Greg? Siamo in battaglia, aspetta un po'. No, cazzo. Si sparano! M'hanno preso. Ce n'è uno dietro, l'ultimo. Ce l'avete revisto? Sì, c'è. Che sì, ce l'ho detto. Rianimami subito. Mi sta prendendo... Ah, sei tu. Ah, sei tu qui. Ah no. Sei tu, cazzo. C'è uno che mi sta rianimando. Sta rianimando gli altri, raga. Dove siete? Ucciso. C'è uno, c'è uno, c'è uno, c'è uno. Sì. Aspetta, ti tiro una granata. Sì, ma rianima mia. No, no, aspetta che è smorto questo. Ma bravo, Bianca. Rianissimo Bianca. Bravo Bianca. Rianimo veloce. Dio, cazzo, l'ho detto. Dio, cazzo, l'ho detto. Mi chiamato. Grazie. Dio, cazzo, l'ho detto. No. E vabbè, la prendo a uno di questi. Oh, è multigrame. Stop my dick, you faggot. Fuck you idiot, die alone. Noob. You are dick, we are free. Mabiot, vedi? Guardati, in giro, eh. Eh, sì, mi ha laggato. Porca puttana. Eccoli. Guarda i bot, guarda quanti bot. Minchia, ci ha lanciarazzi questo. Ci ha lanciarazzi questo, raga, quello che ho ammazzato per primo. Ti vedi altri bot? Mi sento parlare, oh. La cassa d'armi. La cassa d'armi. Hai lasciatola là, ragazzi. Eccolo lì, ancora vivo, quello. Vai, vai, prendeteli il gippone. Hanno, ci ha lanciato il pomogeno, anche. Eh, prendi il gippone, vai. Guarda la cassa d'armi e prendi il gippone. Eccola. Ma chi è che sta sparando? No, no, ma vuoi dietro all'altro. Ma che stiga. Oh, trovo il silenziatore per il mio fusile, però. Ragazzi, veloci, perché stanno venendo altri player. Vendete il cassa, prendete la gippone. Vendete la gippone. Arrivo, fatto. C'è un'allanciarazzi questo qui, dove è il silenzio? Dove vado? Nella cassa hai preso qualcosa? Vai a destra, vai a destra. Dietro la base, vai dietro la base. Oh, mafio. Fermati un attimo, dammi un passaggio. Sì, vieni, vieni, vieni. Mettete un mitragliatore. Un mitragliatore, veloce. Vai, 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 vai. Ok. No. No, merda. Non andare sopra il mare, se vuoi. Non andare sopra il mare, se vuoi. Spara, spara, che c'è tutto. Spara, spara, spara. Alla torre, spara, Dani, alla torre. Vai. Finiti i colpi. Questa è bianca, c'è l'aeroporto, bianca. Finiti i colpi. Lo vedo, lo vedo. È lì sul tuo corpo, Joe. Sì. È morto. Falle bene. Sì. Grande. C'è una macchina, c'è una macchina, c'è una macchina, bianca. Scusate. Ce n'è altri? No, c'è una macchina qua dietro, bianca. Io c'ho un revifo. Avete una... La trolla. La vedo, un resto alla boscaglia. Sto venendo da scelta. Non so cosa stia facendo. Sta mirando verso di me? No, no, no. Ma è di fronte a me, non vi veda voi, assolutamente. Sta controllando questa collina qui. Vuole venirmi a fare. Non ci provare a piacere, eh? Madonna mia, appena esce dalla boscaglia, perché non lo vede? No, l'hai ucciso, l'hai ucciso? Provai a cazzo. No, no, no. No, no, no. Eccolo lì, eccolo lì che si muove, eccolo lì che si muove. Si stara muove. Eccolo lì. Il corpo va mia via, no? Questo video. No, devi rimanere lì. Eccolo lì, ce l'ho di fronte, ragazzi. Se si muove è morto. Ok, mi devi dire rispetto a te. Disfrutta a me, è dietro la collina, non lo vedete voi. Ok, io sto arrivando, dai. C'è lì che si muove, sta strisciando. È morto. Raga, mi fanno. Andate lì, andate lì, lo luttate e gli prendete il camion. Ma, scus, io, Leo. Ma tu hai cambiato? Zero, zero, ha esattamente... C'è un po' 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 un po'. Papà, ma che sta dicendo? Eh, no, è vicino alla 6. Non si si impargo. Vattenvi via, fa l'amicizia. E risultati veni qua, non fosse un po' 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 un... looking atleecivane, raga, dirti, 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 dirti... Il Pourquoiцию costruire la meid. E risultati un po' un po' un po' un po' stai. area Ora si riesca a prenderlo Non riesca a prenderlo Incredibile Ander E tu E tu E tu E tu E tu Grazie a tutti.